Dani stava veramente bene in questo periodo, ha avuto scoperto in gara e ha avuto subito il primo giro. Secondo me sarebbe stato dura, però le gare vanno così. Diciamo che se è super grosso, troverà così quasi avere problemi. Come team sono riusciti a portare la gara a 3 maio, vuol dire che mi hanno lavorato veramente bene, abbiamo avuto la scelta giusta. Te lo aspettavi Joel lì davanti? C'è mia scoperta che hanno supportato, io ho scoperto anche i miei uniti che hanno avuto i problemi. Però dai, non è bene così.